Buongiorno. Ha davvero offerto la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio, non solo al Movimento 5 Stelle? Sì, ho detto ai 5 Stelle cambiamo squadra, cambiamo il governo, cambiamo il Presidente del Consiglio. E il nome che vi propongo è Luigi Di Maio? Lo scelgono loro, ovviamente il capo politico è Di Maio, però hanno scelto Renzi. Ognuno è padrone delle sue scelte, non so se ne saranno felici o meno, secondo me non vanno lontanissimi. Però ognuno è libero di scegliere quello che vuole, io non sono più ministro e quindi faccio quello che fa un senatore. Quindi io opposizione? Sì, per un po' di tempo. Fino al 2023, è lungo. Questi già litigano dopo una settimana, amico mio. Dai, ciao.